ai 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 amici miei è arrivata l'ennesima sconfitta per la fiorentina del nostro amico Rocco ok ai 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 inevitabile parlare dell'arbitraggio penoso penoso perché purtroppo Sin dall'inizio non ha avuto la gara in mano, molto confusionario, ammunizione su Zapata per aver fatto quasi nulla, poi Castrovilli che era quasi da rosso non lo nemmeno ammunisci, annulli un vantaggio per l'Atalanta e non ammunisci il giocatore, tante di quelle cappellate, la stessa simulazione di Zapata che c'è, che c'è, non viene sancita se vogliamo con un esplosione, non ci ha capito niente, sapete perché? Perché istigare gli arbitri serve a poco, serve soltanto a confondere le acque, a creare degli alibi, ma poi alla fine il risultato qual è? Che la Fiorentina continua ancora a perdere. Questo è, perché il verdetto del campo parla sempre chiaro alla lunga, a lungo termine, e io parlo di quello, parlo del campo, e nel campo ho visto come al solito un'Atalanta che si vuole andare a prendere i tre punti, un'Atalanta magari meno brillante del solito, ma sempre forte, sempre sul pezzo, con tanto possesso palla, Sì, perché poi vai a vedere nei minuti finali, all'ottantasettesimo hanno tenuto il pallone per due minuti, per due minuti senza che l'avversario toccasse palla, e quello è calcio, quello si chiama calcio, si chiama magia del calcio, C'è poco da fare, poi ti puoi appellare a qualsiasi cosa, ma quello che lasci in campo è una traccia, ed è di quella che dobbiamo parlare, ragazzi miei. Sì, ripeto, sono anche un po' curioso di andare a sentire poi cosa avrà da dire commisso, perché sai il coraggio di appellarsi alla mancata espulsione di Zapata, dopo che Zapata secondo me per il metro arbitrale non andava proprio a monito Zapata, ma se si va ad appellare a quell'espulsione là, quella mancata espulsione là, veramente siamo alle comiche, anche perché poi in squadra c'è un certo chiesa che a proposito di simulazioni ne combina di crude, però, però sapete, mi conoscete, io non le amo quelle cose, quello che ha fatto Zapata comunque è qualcosa che a me non piace, quello che ti toccano un po', tu che sei un bisonte di due metri per un quintale, ti butti a terra in quel modo imitando Ighita, non so se ve lo ricordate, Ighita, tra l'altro con nazionale e colombiano, quelle sono cose che non amo, però ripeto, non mai tutti, e questa è una cosa, è una nota negata, tutti al minimo contatto provano a fare quella macchietta là, l'unica cosa che poi posso dire a favore di Zapata è che non ha protestato, cioè è stato all'inno, ha protestato, ah poi tra l'elenco degli episodi arbitrali non ho citato un certo Vlaovic, che viene ammonito, che continua a inveire sull'arbitro, io mi ricordo uno Schneider all'Inter, solo per aver applaudito così, venne espulso, Vlaovic, bravo fenomeno, bravo fenomeno, bravo fenomeno, il loop per un minuto, niente, non gli ha detto niente, ripeto, non serve fomentare l'arbitraggio, non serve, crei soltanto confusione, e l'abbiamo visto, l'arbitraggio di oggi è stato confusionario, però alla fine in campo ha vinto la squadra migliore, ha vinto la squadra che si è imposta sull'altro, e questo è il punto, non c'è altro da aggiungere, bravo comunque se vogliamo la Fiorentina a sfruttare il loro gioco, perché poi alla fine si sono difesi anche abbastanza bene, però la Fiorentina, l'unica cosa che posso dire è che continua a giocare un po' da provinciale, cioè tutti i barricati dietro ripartono, e credo che abbia delle qualità importanti per poter cercare anche di tenere, alcune volte il pallino del proprio gioco, perché con Castrovilli, con Pulgar, con Chiesa, con Vlauic, che secondo me vuoi o non vuoi deve giocare titolare, non è che può ripartire dalla panchina, c'è dei giocatori interessanti, e secondo me può cercare ogni tanto di provare a mantenere anche il pallino del gioco, invece si affida soltanto alla velocità di Chiesa in contropiede, che qualcosa anche oggi ha mostrato, perché poi Chiesa comunque è un grandissimo giocatore, io da un punto di vista tecnico Chiesa lo reputo veramente forte, tecnico ma soprattutto atletico, perché quando parte è velocissimo, ha una velocità incredibile, non lo prendi facilmente, e anche oggi la Fiorentina è passata in vantaggio grazie praticamente a un suo gol da fuori, nella sua giocata individuale, ma ha creato qualcosina, ma poco, credo che alla fine il risultato sia giusto, grande come al solito dall'altra parte Gomez, che è poi il lago della bilancia, sembra che faccia poco, ma è sempre quello decisivo, nei gol c'è sempre il suo zampino, nell'equilibrio della squadra, c'è sempre la sua manovra, la sua regia, il fatto che si abbassa a prendere palla e parte da dietro, il fatto che si allarghi, che se ne vada sulla palla, e lui è parte integrante di questa squadra, poi grande gol di Malinowski, anche se lì è complice a un Drongoski, che solitamente è impeccabile. Ragazzi, è andata così, l'Atalanta continua a vincere, l'Atalanta è lì, è lì, al quarto posto, adesso da sola, cosa che io ho sempre ritenuto ultra possibile, quindi non mi trovo per nulla impreparato davanti a questo risultato, l'Atalanta è là, dove merita di essere, in zona Champions, in Champions praticamente, giusto così, tutto giusto così, come vedete il calcio, il calcio paga, il verdetto del calcio paga, senza storie, senza se, senza ma, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likecate, perché no, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, da Neschio!